della medicina e della sanità. Ci aggiungo sanità anche, non solo medicina, perché in effetti è una cosa, dicono magari, gli storici, i professori in genere si occupano più della medicina che della sanità, mentre invece questo è una cosa che noi riteniamo fondamentale, anche perché in genere poi operiamo nel campo della sanità. Grazie, buonasera. Devo rapidamente introdurre a questo corso che dovrebbe essere organizzato, per parlare tra poco, quindi cercherò di rimanere nella mezz'ora, che si dice ogni intervento sarà di mezz'ora in modo da lasciare nello spazio delle due ore totali lo spazio di dibattito di discussione. Un corso sulla salute, primo articolo, ed è importante per quello che stava già accennando Fulvio Aurora, abbiamo voluto scendere sul discorso salute perché attenzione, a noi interessa la salute, la promozione della salute, la difesa della salute, se vogliamo anche al recupero della salute. Che poi questo si abbia attraverso la sanità, è un sistema sanitario, è un corollario, non è il punto di partenza perché la salute non viene promossa soltanto dal sistema sanitario e dalla medicina o dalla ricerca biomedica, la salute in realtà se andiamo a vedere dal punto di vista storico è stata molto promossa di più dagli interventi sul sociale, dall'acquisizione dei diritti dei lavoratori a lavorare non 12, 16 ore al giorno sistematicamente nelle condizioni che interessavano di più ai padroni, ma ad acquisire dei diritti, a difendersi, a promuovere delle condizioni di vita e di alimentazione e di lavoro migliori. Questo ha inciso molto di più sulla qualità della vita e il benessere della salute di quanto non abbia inciso alcune scoperte scientifiche di benemerite che però sono arrivate un po', è stato dimostrato da più di un sociologo della medicina, un po' tardivamente, cioè la vaccinazione contro la tubercolosi non è quella che ha dubbillato la tubercolosi, la riduzione degli effetti della tubercolosi si sono cominciati a vedere quando si sono presi più, le condizioni di vita e di lavoro più umane negli ambienti, e questo non sono stati occhiati dai medici. C'è da dire a onore dei medici che molti medici erano molto schierati anche politicamente in quei periodi, oggi forse un po' meno, e hanno contribuito ma non in quanto medici ma in quanto persone che sapendo che la malattia è qualcosa di complesso nel suo determinismo bisogna promuovere la salute e comparte la malattia lavorando sulle cause, lavorando sulle condizioni che la promuovono. Il corso sulla salute patria-betterranese. Medicina democratica, assieme alla rete lombarda sulla salute e l'altro che vedremo perché il discorso si vuole inserire in un processo questo corso, viene già da altri che sono stati fatti, altri ne ne faremo, ma diciamo che medicina democratica ha che titolo fa queste cose? Medicina democratica cerca di portare avanti un programma, un programma ecco, biometria e statistica, semplicemente è un istituto che è stato fondato diretto e che è stato caratterizzato da una figura straordinaria di medico-docente universitario che è uno dei padri nobili fondatori di medicina democratica e ha lasciato un'eredità, è morto molto presto, morto a 53 anni, nel 77, al 15 di gennaio, però ha lasciato un movimento, ha lasciato uno statuto, ha lasciato una dichiarazione di intenti che vale ancora oggi e in particolare perché facciamo questi corsi e ci muoviamo come le città democratiche? Perché abbiamo una bussola, un'indicazione, una stella polare, ovvero quella di promuovere la partecipazione per promuovere la salute, partecipazione, democrazia, partecipazione e Macacharo sosteneva non solo la partecipazione per promuovere la salute, ma la partecipazione è una faccia della salute, non si può essere in buona salute se non si è partecipanti alla vita sociale, alla vita di tutti i giorni, a quello che si decide, se siamo subordinati non possiamo essere sani, ecco il concetto, partecipazione per promuovere la salute, partecipazione come una faccia della salute, del benessere sociale. Rientra nella famosa definizione di che cos'è la salute dell'organizzazione mondiale sanità che quando si pensava in grande ci diceva che la salute non era semplice assenza di malattia, ma ecco qui. Ok, medicina democratica, partecipazione. Ma siamo qui a fare un corso perché, diciamo così, un po' granscianamente, se vogliamo riferirsi a qualcuno, se si riferisce al comunismo, ci sono dei fondamenti alla partecipazione. La partecipazione non è uno spirito volontario, entusiastico, andiamo e partiamo e facciamo le cose, no? E ci rimbottiamo in mano. Partecipazione richiede consapevolezza, una volta si chiamava coscienza di classe. Partecipazione richiede conoscenza acquisita attraverso l'informazione, lo studio e la discussione perché nessuno si salva da solo, c'è un famoso che sta girando, e nessuno riesce a promuovere la partecipazione da solo, la partecipazione è qualcosa di collettivo. E soltanto la discussione nel rispetto delle diverse prospettive, soprattutto arricchendo, e qui torna ancora un altro mandato di Macca Caro, medicina democratica è un movimento di lotta, ma anche un movimento culturale, un movimento che vuole al suo interno, insieme, diverse competenze, diverse figure professionali, in cui ci sono i lavoratori come primi interessati a promuovere la ricerca, e qui viene fuori la famosa legge 300, in cui oggi si parla tanto male, perché finalmente siamo riusciti a lavorare lo statuto dei diritti dei lavoratori. Fortunatamente non è così, però se non c'è consapevolezza ci servirà. E quindi consapevolezza, competenze, ruoli professionali differenti. In medicina democratica ci devono essere i lavoratori, a titolo di presenza non ad ascoltare ma anche a insegnare, così come ci devono essere i professionisti, i ricercatori, gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari, ma anche gli ingegneri, anche quelli che collaborano a definire quali sono gli ambienti di lavoro, il cui mandato è sempre stato dato solo da una parte, con un obiettivo, guardate che dovete spendere il meno possibile e farci guadagnare il maggior possibile. Le condizioni alle quali si lavora non vi riguardano, voi siete tecnici, siete ingegneri, pensate alla linea di produzione, il resto ce lo vedremo noi. con gli esisti che conosciamo. Quindi partecipazione, medicina democratica, con presenza di diverse competenze e professionalità per confrontarsi nei modi, sui modi con i quali si può promuovere la salute. E allora la medicina democratica cerca di organizzare corsi, assemblee, seminari e allora il convegno prevede due incontri, no? Alla fine, giugno e novembre, in cui faremo un po' il punto, perché non vogliamo fare soltanto dell'erudizione, vedrete che non si tratterà anche oggi di erudizione, anche se parleremo di storia. Ma non vogliamo neanche fermarci alla teoria, vogliamo anche promuovere un movimento, un movimento che cambi qualcosa, che serva a cambiare tutto. E allora, attraverso anche una rivista, la rivista d'accolto ad esempio di me, ma ci si propone di investire tanti altri argomenti con questa rivista, si vuole stimolare, continuare a stimolare lo studio, ripeto, l'importanza di studiare tutti, ci dobbiamo rimboccare le maniche su questi temi, riflettere, dibattere, per analizzare, per capire, per criticare, ma anche per proporre, perché l'ultimo, il convegno, il secondo convegno, si era proprio fatto in un'ottica molto ambiziosa, è fatto di dire, ma sta andando così, non ci sta andando particolarmente bene col sistema sanitario né regionale né nazionale, tutto quello. Ma non abbiamo niente di propositivo da dire e già da oggi vedremo che c'è molto di propositivo che è stato detto, forse si è dimenticato, ma sarebbe il caso di riprenderlo per avere come minimo l'orgoglio di essere appartenenti a un movimento storico che ha delle radici molto profonde e che ha saputo indirizzare in un futuro realmente positivo, realmente favorevole a quello che era il cosiddetto servizio all'uomo e lavorare per una promozione di una scienza, di una neocrazia reale e così via, e che forse abbiamo un po' troppo dimenticato e abbiamo un po' troppo un senso di smarrimento. Se non recuperiamo queste radici, queste conoscenze, queste competenze, rischiamo di farci scavalcare da un pensiero unico. Il pensiero unico è allora quello che riguarda medicina, salute e sanità nell'era del neoliberismo, che è quello in cui siamo immersi. Non importa se dopo Bush è arrivato Vado, tutto sommato il neoliberismo, la scuola di Ciccargo, Milton Friedman, hanno avuto e hanno un'influenza molto grande, lo vediamo anche in Italia, attraverso Blair da una parte, una certa forma di renzismo, che io, attenzione qualcuno va a sparare a zero, è comunista, non sono così anti-renziano per partito preso, però vedo le derive che ci possono essere, che ci sono e che portano molto lontano da quello che dovrebbe essere il nostro discorso, ma se noi non ce lo chiariamo il rischio è grosso di andare a perdere tutto. E allora il neoliberismo è quella scuola che ha cominciato a erodere i sistemi internazionali, ha eroso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i suoi programmi, ha imposto attraverso la Banca Mondiale e attraverso il Fondo Monetario Internazionale un cambiamento radicale della prospettiva della sanità nel mondo, che è consistito nel dire basta con la dichiarazione di Almata del 78 che diceva guardate che bisogna fare un buon sistema sanitario di base, bisogna istruire persone, far partecipare persone se vogliamo promuovere la salute in un ambiente tipo i famosi paesi in via di sviluppo. Dobbiamo fare delle campagne che organizzino la competenza, che organizzano la base, i medici di base, il famoso movimento dei medici scalzi che una volta, quando la Cina non era proprio quella che oggi, proponeva come movimento dei cubani che hanno dato un contributo in Angola, cioè c'era una visione di questo genere. Bene, negli anni fine 70-80 c'è stato un cambiamento totale, una distruzione totale di questo, che ha portato a dire noi finanziamo soltanto progetti mirati a problemi, vogliamo affrontare non la salute in Tanzania, ma vogliamo affrontare il problema della bilaziosi oppure della leismaniosi, oppure anche della malaria, problema per problema. Questo ha devastato la situazione, ci sono fiori di articoli sull'Enset, sul New England Journal-Messi che hanno detto che questa impostazione ha distrutto i sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo, ha promosso un affarso aiuto, perché sapete sono famosi aiuti che si davano alla sommaglia via, i socialisti così dicono, diamo gli aiuti, ma gli aiuti cosa sono? Noi diamo gli aiuti che vanno a finire a delle industrie che sono italiane, che vanno lì a fare un progetto e il profitto va di là. Cioè quindi questo è il sistema, non è un modo per far crescere davvero la struttura sanitaria e quindi si sono smentiti i documenti che tutti si erano firmati, su cui si era d'accordo e cito Alma-Ata e Ottawa. Due documenti fondamentali, uno del 1978, l'Organizzazione Nobel-Sanità e uno del 1986 che dicevano che per promuovere la salute ci vuole un tetto, lavoro, sicurezza, ambiente, ecologia, difesa e il sistema sanitario. Punto. Non serve fare dei progetti separati in cui oggi studiamo questo e se altri studiano altro. Quindi questo è il neoliberismo e che cosa può dare? Questa strategia che si è dimostrata fallimentare se andate sulle riviste scientifiche e trovate i fallimenti, ma sono stati denunciati nel 2000, sono stati lanciati oggi. Bene, è ancora attiva e sta allargando la sua ottica. Ad esempio, il discorso che ha fatto Obama sul problema di promuovere quello che viene chiamato la medicina di precisione si chiama Precision Medicine Initiative, l'iniziativa della medicina di precisione, che propone che tutti i pazienti vengano edificati con il loro genoma, cioè fare a tutti il genoma perché? Perché c'è una nuova tendenza ipertecnologica in medicina che è quella di trovare nuovi farmaci ipertecnologici e vanno curare paziente per paziente, fare quella che si chiama la medicina personalizzata, che ha un ottimo proposito ma potrebbe essere un pessimo padrone a guidare la direzione dello sviluppo della medicina perché in questo modo si sta cercando di sviluppare una medicina ipertecnologica, di sviluppare una medicina di produzione di farmaci del tipo del sofosbuvir. Vi ricordate, la pomeriggia è uscita, il sofosbu è un farmaco molto efficace, sembrerebbe, attenzione, sembrerebbe, molto efficace per l'epatite C che costa però 50.000 euro a trattamento o meglio, attenzione, su internet qualcuno dice ma io l'ho trovato 18.000, ma se lo vendo al sistema sanitario nazionale italiano voglio spuntare 50.000, poi si è riuscita a pagare 38, ma è sempre una cifra, un botto, perché? Ma perché sono 50.000 non spese per trattare un paziente, sono 50.000 per 12 per trattare un paziente. I conti che sono stati fatti è che se noi tutti dovessimo trattare tutti i pazienti con l'HCV con sofosbuvir non ci sarebbe più un soldo per gli altri tipi di farmaco, invece per l'assistenza farmaceutica. In più è partita negli Stati Uniti una campagna che dice, sì però guardate che i pazienti che sono affetti da HCV ed epatite C sono soltanto una quota, il famoso iceberg, la punta dell'iceberg. Noi dobbiamo promuovere uno screening di popolazione perché ci sono alcuni che ancora non lo sanno. E allora ecco il concetto del profitto del neoliberalismo e della privatizzazione. Andiamo ad allargare il mercato, andiamo a fare lo screening per andare a cercare tutti quelli che hanno una forma latente perché poi anche a loro procureremo di dare il trattamento e sapete che il mercato si mette in campo. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che stanno andando avanti e che passano all'interno di una certa scarsa attenzione. Allora io da una parte sono per l'idea che ogni ricerca che si fa capire qualche cosa di più del funzionamento è fondamentale e importante, guai ad essere dei luddisti. Ma che caro, ho perduto molto tempo a dire guardate che io non sono contro la scienza, io sono contro una scienza che è contro l'uomo, non contro la scienza in generale. Figurata, io sono uno scienziato, è stato uno scienziato per tutto il periodo che ha vissuto, quindi non poteva essere contro la scienza. Ma lui era convinto che l'etica dovesse essere la base della ricerca scientifica e che la scienza avesse una sola giustificazione, non quella di fare arricchire qualcuno, ma quella di rendere un po' più leggera la fatica di essere persuomini. Cioè, quindi aveva un'idea un po' precisa di che cosa dovesse essere la scienza. Quindi io non sono in contrasto per partito preso su queste, ma vedo in queste impostazioni che non hanno una controparte analitica, cioè una controparte culturale e invece una dominanza come se fossero, come dire, eh, privato, eh, cosa vuoi fare? Il privato è più efficiente, va bene nella scuola, va bene nella scuola, va bene dappertutto, va bene nei trasporti, va bene e così via. No, questa è un'ideologia e su questa ideologia dobbiamo essere molto attenti ed essere chiari. Ok, questo è il problema medicina, sanità, salute nell'era del neoliberalismo. Su questi punti io credo che dovremmo fare delle riflessioni perché le proposte devono tenere conto di questa situazione. D'altra parte, allora, per tornare al percorso che voi avete, avete visto che ci sono delle lezioni che riguardano le diverse cose. Allora, direi, per citare un altro titolo di qui, direi il capitale umano, ovvero se questo è uno scarto, eh? E allora c'è tutta la grossa problematica che va contro la ideologia dominante, il pensiero unico della competitività, della competizione, dell'efficienza, del giovanilismo che è fatta da disagio mentale, è fatta da tossicodipendenza, è fatta da anziani fragili, è fatta... bene, ecco, su questi bisognerà che noi riflettiamo in termini di servizi, di trattamenti domiciliari, di organizzazione perché dobbiamo scendere sulla pratica di questi tipi di cose. Allora, a proposito di questo, è abbastanza interessante, è uscita oggi la... io avevo sentito parlare a Imola di questa cosa, la prima volta diceva, ragazzi, ci hanno scavalcato, non siamo più la prima regione, siamo la seconda, e si parlava della Romagna e la Toscana ha preso il primo premio, no, dello stato dei indicatori sui LEA, e la Lombardia è scivolata nel frattempo dal secondo al sesto posto, ha totalizzato su questi indicatori un totale di 100, credo di 187, contro 220, il massimo possibile, 214 della Toscana. Attenzione, nessuno dice che gli indicatori certi sono il massimo, sono l'oro colato, ma io sono convinto che valutare la qualità della salute, del servizio, la salute come esite, ma anche del servizio sanitario, così come organizzato, usando degli indicatori, sia una strada da percorrere, perché è meglio che ci sia una valutazione anche se imperfetta piuttosto che nessuna valutazione, perché sull'eccellenza Lombarda, su tutte queste cose, abbiamo un po' le scatole piene, cioè quindi andiamo a misurarci sulle problematiche vere, i servizi come funzionano, le liste d'attesa, la prevenzione quanto assorbe davvero, i servizi di prevenzione e igiene ambientale, quelli che oltre si chiamavano gli SMAL, che saranno presenti in un'azione sulla prevenzione in ambienti di lavoro, beh, tutto questo è da valutare per dire a che punto siamo. La Lombardia non è forse mai stata quella eccellenza, a meno che noi ritorniamo indietro quando, negli anni 70, i greco, i bassetti e altre persone hanno promosso davvero l'innovazione attraverso appunto l'istituzione dei servizi di insieme di lavoro, attraverso tutta una serie di iniziative che a quel tempo promuovevano davvero la salute. Grazie al fatto di potersi basare, qui lo ribadisco ancora perché qua siamo su il rezzismo, si è manifestato un po', grazie alla legge 300, l'articolo 9, e non possiamo dire che sul lavoro e sulla prevenzione della salute abbiamo scherzato. L'articolo 9 della legge 300 dello Statuto dei diritti dei lavoratori è da riprendere, così come è da riprendere anche se vogliamo con una certa serietà l'articolo 1, l'articolo 32 e soprattutto l'articolo 41 della Costituzione. 41 quello che stabilisce che l'iniziativa privata è libera ma non può esercitarsi a danno della collettività. Qualcuno ha fatto dire a JP Morgan, la famosa banca americana, ma queste sono costituzioni socialisti del sud Europa, non è possibile. E no, noi questo non glielo lasciamo dire il neoliberalismo, dobbiamo verlo molto chiaro che questa è la nostra costituzione. E allora la conclusione del discorso qual è? è che noi abbiamo un obiettivo e l'obiettivo è quello di avere delle proposte, pensare a quelli che sono i modi per riorganizzare un servizio sanitario che metta al centro l'uomo, la difesa della salute ma anche la promozione della salute intesa globalmente, che vuol dire vivere in uno stato di benessere sociale, psicologico oltre che fisico. E per questo riuscire a rilanciare la prevenzione, l'attenzione alle condizioni di vita, così come sul lavoro si è detto guardate che non basta dire non c'è rumore, qua ce n'è, non basta dire eliminiamo le emissioni nocive, poi ci sono e altre cose. Bisogna anche che non ci sia un certo tipo di lavoro forzato, di tipo le cadenze, famosa catena con i tempi, ecco, ci deve essere un'espressione, il lavoro, quello tutelato o messo al fondamento della Repubblica dell'articolo 1, non è il lavoro alla catena di montaggio, è il lavoro come espressione e realizzazione della persona umana, ecco, questo è da recuperare. E quindi è il problema del lavoro, dell'ambiente naturale e urbano, dell'inquinamento e dell'alimentazione del territorio. Cioè tutto questo riguarda la salute e la difesa della salute che dovrebbe essere il centro del sistema sanitario. Ok, a conclusione allora il discorso che faremo oggi, ovvero partiamo dalla memoria. Dalla memoria di che cosa? Dei valori da promuovere e da difendere, perché se non abbiamo chiaro questo non sappiamo perché cosa lottiamo e perché cosa ci stiamo lamentando. Partiamo dalla memoria dei sacrifici che forse ai giovani vanno un attimo ben spiegati, dei sacrifici e dei percorsi che hanno portato alla formulazione di questi valori, non sono nati da soli. La Costituzione non si è scritta da sola in una notte, è stata scritta dopo che sono successe tutta una serie di cose e sulla varie esperienze e storie che hanno avuto un significato e hanno avuto anche i loro morti, molto senza retorica ma molto concretamente. Tutto questo è il patrimonio al quale dobbiamo far riferimento e la memoria deve riguardare queste cose e deve essere soprattutto la memoria anche delle elaborazioni culturali e delle lotte che sono state fatte per affermarli questi valori, per scriverli su una Costituzione. Una volta scritti lì e una volta scritti nelle dichiarazioni internazionali dovrebbero essere fatti valere e quindi vanno difesi oltre che conosciuti. Ecco, per questo adesso direi che l'intervento del professor Cosmacini, che è uno storico, prima ancora che uno storico della medicina, è proprio inteso, ci ha detto che ha una deriva comunista di formazione, benissimo, da lui ci aspettiamo proprio questo recupero della memoria, la storia come memoria di qualche cosa che dobbiamo utilizzare per costruire il futuro che vogliamo. Grazie.